FLECCHIN BANK Il programma di musica elettronica dei cyberpunkers in onda ogni venerdì notte dall'1 alle 2 su Radio 105 Ospiti di questa settimana, Belzebass I Belzebass sono due DJ produttori che nascono nel 2008 tra il cemento e le lamiere bergamasche Entrambi hanno avuto precedenti esperienze musicali come batteristi e vocalist in band metalcore, nu metal e stoner I loro interessi spaziano tra i generi più diversi ed hanno consigli ben poco definiti Il metal più grezzo si fonde a synth grassi dal volto drum and bass, fidget e new rave Le loro produzioni si propongono di fondere insieme tutti i generi musicali di cui sono innamorati Per creare il loro suono clubcore, la loro follia è seconda soltanto alla loro ignoranza e passione per il trash E se definiscono capri incazzate pronte a disintegrare le vostre orecchie namidate Sito internet www.myspace.com Slash Belzebass Possiamo esibizioni in Italia Sabato 12 giugno Discoteca Volgia Bergamo Sulla console di Fleshing Punk suonano Belzebass Fleshing Punk 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti